La capolista non si lascia sfuggire l'occasione di irrobustire la propria leadership, sebbene il testacoda al comunale di Nereto alla fine sia risultato più sofferto nei numeri che non nella sostanza. Gli highlights curati da Manuel Centurame dal sesto, il primo acuto ospite proprio con il neo arrivato Massetti, defilato a mezza altezza, il tiro si perde a lato. Anche Diarra prova la conclusione dalla distanza potenta ma senza fortuna, l'Aquila è padrona del gioco e della metà campo avversaria e tesse la tela con molta perizia, anche perché la squadra di Simone Vitale se ne vede bene di attaccare a sproposito la corazzata, a dire il vero quando lo fa come a metà parziale e tiene sempre allerta la linea difensiva mezz'ora. L'Aquila prova a sfondare in aria con Sarrizzo che riesce ad ispirare la girata di Shiba respinta nel suo esito. Sul finale di tempo i rosso-blu alzano i ritmi. Al 39esimo angolo ospite, coordinazione e conclusione di Massetti esemplare con palla che scavalca la porta. Due minuti dopo difesa nera e tese in affanno, Sarrizzo serve in aria Shiba e lì ma il tentativo è di poco fuori. Ad un minuto dal duplice fischio la prima sortita nera e tese Cianci in verticale per Taccosta che però manda la sfera lontanissima da Mascolo. Passa in archivio il primo tempo, ripresa con inizio a testa bassa e proprio di testa Marchionni si ora la marcatura così come Sarrizzo che non trova il pallone tre minuti dopo. Epifani intanto dà spessore all'attacco proponendo il ritrovato Alessandro in luogo di Mantini. Sarrizzo va via d'imperio e il suo assist semina panico in area dei locali che salvano la porta. Pericolo ancora da destra Alessandro, Sarrizzo esterno rete. Il forcing Aquilano si fa impressionante, le occasioni aumentano in maniera esponenziale e quella decisiva cade al diciassettesimo sui piedi di Massetti che con il sinistro forse sporcato infila Natale. 1-0 vantaggio meritato il Nereto. Intanto perde Picozzi, espulso per doppia ammunizione. Insomma, la beffa oltre il danno. Vitale prova tre cambi di Silvestre, Giuse e Tiberi. Uno per reparto ma in dieci sotto di un gol e contro la voglia degli ospiti di chiudere la gara. Non è assolutamente semplice. Si fa male Sciba nella capolista. Santi Rocco al suo posto. Insomma, in termini di vere e proprie occasioni dopo il gol non ce ne sono. Sebbene l'Aquila continua a far gioco e il Nereto non è mai arrendevole. E così, fino al termine forse complicata ma indiscutibilmente meritati i tre punti per la capolista che allunga a più quattro sulla seconda. Allora mister, ce l'avete messa davvero tutta? Potevate fare lo scambetto all'Aquila che comunque poi alla fine ha vinto meritatamente. Però il vostro impegno è stato notevole. Sì, le partite iniziano tutte 0-0 e noi ogni partita se vogliamo raggiungere l'obiettivo dobbiamo vendere cara la pelle. Oggi devo dire che la squadra l'ha fatto bene. Peccato per quella piccola disattenzione di un rimpallo. Però sappiamo il potenziale dell'Aquila. Però noi siamo sempre più completi. La squadra sta prendendo forma. Non dobbiamo abbatterci ma continuare su questa strada. Può essere questo l'inizio di un nuovo campionato per il Nereto? Deve essere questo. Già dalla domenica scorsa contro il San Buceto sta iniziando un nuovo percorso dove sappiamo che non dobbiamo gioire per una buona prestazione. Anzi, dobbiamo essere arrabbiati e pronti già da giovedì a vendere cara la pelle e portare a casa qualche punto. Allora mister, più sofferta del previsto, anche se assolutamente meritata questa vittoria. Indiscutibile. Ma sofferta credo per il campo in assoluto perché poi oggi credo che era il limite che si poteva giocare perché praticamente non si stava in piedi, la parola rimbalzava male. E' facilità le squadre che si devono difendere. Però credo che abbiamo avuto tante occasioni da gol, abbiamo fatto gol. Però sono le partite complicate. Questo è il calcio. Oggi è una partita scontata. Se non la sblocchi rischi di portarla a termine 0-0. Però noi siamo stati bravi perché ogni volta che troviamo questo campo cambiamo il microchip mentale perché abbiamo fatto una partita di forza e l'abbiamo vinta meritatamente. Sono tre punti importanti che possono sembrare scontati ma non lo sono scontati. Non sono scontati anche perché poi tra l'altro la classifica si rubostisce più 4 sulla seconda. Sì ma quella è la cosa che mi interessa di meno ma lo dico sinceramente. Noi dobbiamo continuare il nostro percorso. Come dico da sempre il giorno di torno è un campionato totalmente diverso. Anche il Nereto si è rinforzato perché oggi c'erano 7-8 giocatori nuovi. Quindi completamente diversa la rosa da domenica scorsa. E quindi le insidie sono queste perché tutte e quante si rinforzano. Quindi il giorno di torno sarà molto molto difficile. E quindi tre punti oggi qua sono molto importanti perché continuiamo la nostra striscia positiva. E l'obiettivo nostro è sempre lontano.